Ciao ragazzi, allora esce il vostro nuovo disco The Best of Ten Years con cui festeggiate i primi dieci anni di carriera un disco che contiene anche un DVD con il live speciale che avete fatto a Matera questo disco racconta in ordine cronologico i nostri dieci anni di carriera da Il Mondo Sole Mio a Nessun Dorme e Grande Amore ci teniamo tanto perché questo è un disco internazionale, l'8 novembre uscirà in Italia e in tutto il mondo insieme al disco ci sarà questo DVD, un concerto registrato e filmato nella fantastica città di Matera abbiamo scelto Matera perché quest'anno come tutti sanno è capitale della cultura europea e sarà trasmesso nelle reti media il 19 novembre, quindi è una grande settimana questa per noi Dieci anni di carriera, di successi, di collaborazioni internazionali ma se doveste pensare a un momento più bello che avete vissuto in questi dieci anni che cosa vi verrebbe in mente? Abbiamo iniziato l'anno cantando a Panama la giornata mondiale della gioventù per Papa Francesco un Ave Maria scritta apposta per noi e quello forse è stato uno dei momenti più emozionanti per non parlare dei vari duetti con Barbara Streisand, Placido Domingo o We Are The World For Haiti nel 2011 ci sono tanti momenti che ci hanno fatto crescere professionalmente come persone e ci hanno fatto arrivare appunto a dieci anni di carriera Per voi? Viviamo la stessa vita Allora arrivate dal tour di successo in Sud America poi ci sarà il tour in Nord America e il prossimo anno tornerete all'Arena di Verona Che cosa rappresenta per voi questa location così speciale visto che avete già cantato diverse volte all'Arena? Oggi abbiamo annunciato queste due date 30 agosto l'Arena di Verona e il 4 settembre Teatro Crico di Tormina che sono dei posti che significano molto per noi perché comunque l'Arena è uno dei palcoscenici più ambiti per degli artisti italiani ma è non solo e la prima volta è stata emozionante la seconda volta è stata emozionante e non è mai scontato ecco il fatto di abituarsi all'Arena così come il Teatro Crico di Tormina e siamo molto felici di ritornarci di nuovo Tra tutti i posti in cui vi siete esibiti ce n'è uno in particolare che abbiamo emozionato di più insomma Radio City Music Hall a New York è un posto, il tempio della musica americana e quest'anno ci ritorneremo il 6 febbraio tra l'altro sarà l'inizio del tour americano che durerà due mesi siamo carichissimi Grazie mille Grazie